Sono molto informatico, ora quando sentono il nome Giorgia Meloni saltano in aria. Hanno anche chiesto a noi cosa può succedere, naturalmente il nostro compito è rassicurarli, non succederà niente. Si stanno sdovanando troppe cose, si può insultare le donne, non succede niente, si può essere omofobi pubblicamente, non succede niente. La priorità sono i nostri figli che sono minorenni e di fronte ai figli, alla tutela del loro benessere, dei loro diritti, io sarei disposta anche a trasferirmi. Grazie a tutti.